Amici e amiche di RBI, bentornate, bentornate, siamo a Pinerolo per Artigianato Pinerolo 2023, terza giornata della 47esima edizione dedicata a niente po' di meno che le città invisibili, abbiamo anche qua con noi davvero i nerd della lettura, Italo Calvino, cent'anni della nascita dello scrittore italiano che ha fatto un po' da filo conduttore ai tanti appuntamenti di Artigianato Pinerolo 2023, ultima giornata, non è ancora finita, anzi ci sono ancora diversi motivi per raggiungere Pinerolo e vivere questo bellissimo scorcio di fine estate nella Pinerolo che abbiamo il piacere di ritrovare per andare anche un po' come dire a trarre le fila, appunto a chiudere questa edizione 2023 con il sindaco Luca Salvai, ciao Luca, ben ritrovato. Ciao a tutti, grazie. E la vice sindaca della città di Pinerolo, Francesca Costarelli, ciao Francesca. Ciao. Abbiamo con noi il libro Le città invisibili. Luca, in questa edizione 2023 l'organizzazione di Artigianato Pinerolo con i vostri partner, con Proloco e con gli altri partner che hanno reso possibile questa manifestazione si è cercato di rendere visibile l'invisibile in più di un'occasione. Quanto è importante, insomma, penso che sia fondamentale cercare di dare spazio e voce a chi magari è un po' più invisibile come purtroppo stanno a essere anche gli artigiani e le artigiane. Ma sì, era un po' anche quello che ho detto nel discorso introduttivo dell'artigianato che abbiamo fatto all'inaugurazione venerdì in piazza. Qualche anno fa avevamo montato e avevamo fatto tutta una serie di lavori, anche in questo senso avevamo montato un gigantesco buco della serratura, no? Se ti ricordi, era edizione 2018-2019, adesso non ricordo bene, dove invitavamo la gente e le persone a guardare attraverso questo buco della serratura per andare a scoprire che cosa c'era dietro. La metafora cambia, quest'anno nelle città invisibili di Italo, Calvino, il messaggio che vogliamo dare è sostanzialmente più o meno il medesimo, ovvero che cos'è la rassegna dell'artigianato. La rassegna dell'artigianato ormai da molti anni abbiamo cercato insieme a Francesca di dargli un po' questo taglio qua. Non vuole essere una fiera di paese, ne abbiamo altre due fiere che tra l'altro stiamo anche cercando di rilanciare quindi con impegno sia in termini di lavoro che in termini economici. L'artigianato vorrebbe essere qualcos'altro, no? E vorrebbe essere proprio un momento in cui l'amministrazione, le parti migliori di questa città, invitano la gente ad uscire ed andare a scoprire, a guardare attraverso il buco della serratura ed andare a scoprire quello che è invisibile ma che in realtà c'è, lavora, produce tutto l'anno. Questo è il senso dell'artigianato e questo secondo me è il modo in cui anche tutti questi visitatori dovrebbero approcciarsi alla festa. Non una passeggiata per magari comprare la giacchetta anche bella o il capo d'abbigliamento o l'altro prodotto tipico ma un momento dove c'è anche questo, c'è lobbismo, c'è un artigianato di qualità ma c'è anche tutta un'altra serie di eventi culturali, musicali, culinarie, degustazioni di vino in cui veramente le eccellenze nella realtà di questa città, di questo territorio, si mettono in mostra. Per fare questo che cosa ci va? Ci va quel pizzico di curiosità per andare un po' oltre e osservare ed essere curiosi. Quello buco della serratura. Ecco, esatto, esatto. Allora abbiamo tanti, tanti spunti da poter ricordare in questa edizione 2023 che ricordiamo, in realtà non è ancora terminata, culminerà con lo spettacolo teatrale nella terrazza San Maurizio, l'aperitivo, il DJ set, insomma quella festa, quella dimensione della festa ma anche del richiamo alle tante attività, alla creatività, al saper fare artigiano. Abbiamo parlato poco fa anche di teatro dialettale, insomma cultura e non solo, sono tanti gli argomenti, la cavallerizza che è diventato praticamente un hub culturale come la Bicocca di Milano, come la Biennale di Venezia, no ma guarda che se fosse quella cosa lì, quella opera di Paolo appunto Grassino, se fosse alla Biennale di Venezia avrebbe assolutamente il suo perché, credimi, quindi ed è qua a Pinerolo, io sono in quel avviso Francesca, io credo di non aver volato troppo alto. No, concordo con te, anzi, riaprire questo luogo del 1907 Cavallerizza Caprilli in centro a Pinerolo, celato da davvero tantissimi anni alla maggior parte delle persone, dei cittadini di Pinerolo, con quest'opera dal titolo Incursioni, che secondo me vuole dirci anche qualcosa, al di là del tema della mostra, del percorso che è legato alla guerra, nel nostro caso l'abbiamo anche un po', diciamo, letto proprio in chiave di svelamento. Ritorniamo ad impossessarci dei beni comuni, degli spazi comuni, dei nostri luoghi, abbiamo bisogno anche di spazi per incontrarci, le comunità anche di questo hanno bisogno. Vada, il tema della guerra, al quale aggiungo il tema del conflitto, il conflitto è diverso, in realtà non è una metafora della guerra ma è altro, è uno scambio acceso di punti di vista, di tanti aspetti, insomma, che riguardano i sentimenti, riguardano le idee. Ecco, quello spazio della Cavalleria Caprilli, che dopo la mostra fotografica dedicata a Gianna Artusi Bertron, rivive attraverso l'arte contemporanea, che ci pone tante domande e ci dà anche un bel pugno nello stomaco, con opere come quella appunto di Paolo Grassino. Sono tanti gli argomenti di cui parlare di questa edizione 2023 di Artigianato Pinerolo, abbiamo appena accennato appunto al biennale di scultura diffusa, l'arte che esce dalle gallerie e abbraccia la città, ma anche i talk, i momenti di confronto che hanno arricchito questa edizione 2023 con l'intervento fattivo, ad esempio, dell'OFT e di altre realtà, insomma, di Pinerolo. Sì, l'idea è stata proprio questa. Abbiamo apprezzato moltissimo il tentativo del gruppo giovani, a mio parere tentativo più che riuscito, di esplorare anche attraverso appunto degli incontri, attraverso l'ascolto, che è una cosa, come ho detto, la prima sera di questi incontri rara e preziosa, perché soprattutto siamo abituati sempre a mostrare ultimamente e non tanto ad accogliere, a ascoltare e mi piace molto l'idea del conflitto in questo senso qua. Le crisi sono benvenute da questo punto di vista perché poi si possono risolvere in qualcosa di nuovo. Quindi benvenga che arrivino. Siamo al settimo anno in realtà perché è la 40 più 7, noi abbiamo iniziato con la 40 più 1. Il settimo anno solitamente si dice che c'è la crisi del settimo anno, ma benvenga perché magari è una crisi che si risolverà con qualcosa di nuovo, qualcosa di migliore. L'idea di aver intitolato confini invisibili è proprio questa. Cerchiamo di spingerci ai confini, ma in realtà anche un po' oltre. Con questo gioco di farci vedere, ma anche di guardare e finalmente di vedere dentro e fuori le nostre mura di tutti i tipi, fisiche, mentali, culturali, politiche. La crisi vuol dire cambiamento, insomma traducendo un po' in maniera maccheronica dal greco. Quindi benvengano i cambiamenti e le buone idee. Le idee che penso, Luca, debbano essere accompagnate dal coraggio. È una parola che a me piace molto, il coraggio. Il coraggio di fare, il coraggio di proporre. C'è stato il successo delle visite guidate, delle degustazioni. Quindi, coraggio e costanza anche. Il crederci in questi progetti. Se non ci crediamo prima noi, come pideolesi, no? Sei d'accordo? No, sono assolutamente d'accordo. Io quello che dico è che il coraggio, secondo me, non c'è mai mancato. Purtroppo ultimamente non voglio tornare sempre... Forse c'è mancato un po' di motivazione, ecco. Perché il 2021, il 2022, anche a cavallo delle elezioni, la campagna elettorale, il Covid, tutto la guerra, insomma, sono stati periodi veramente difficili in cui lavorare, la macchina amministrativa andava veramente a rilento, cantieri che non partivano. Ecco, io penso adesso che invece il coraggio noi l'abbiamo sempre messo. Forse ogni tanto abbiamo un po' pagato questo, no? Un po' di demotivazione dovuta anche alla situazione contingente che non ci permetteva e non ci ha permesso nel 2020, il 2021 e buona parte del 2022 di poter organizzare dei momenti come questo, dei momenti come la fiera in cui la città si ritrova e anche l'amministrazione dopo una, dopo voglio dire, tre giornate così anche noi siamo contenti, anche noi, cioè domani sono sicuro che torneremo in ufficio un po' tutti con un altro spirito, ecco. Servono queste manifestazioni anche a noi. Coraggio, ma il coraggio anche per i pinevolesi e le pinevolesi, intendevo anche questo, cioè non solo l'amministrazione, ok, che sono stati veramente, sono tanti progetti partiti, anche con coraggio appunto, è uno di questo, è il rinnovamento delle fiere e di artigianato. Adesso tocca anche ai pinevolesi. Sì, perché quando, e soprattutto questo l'abbiamo notato in una realtà come Pinerolo, cioè che purtroppo spesso i pinevolesi urlano al cambiamento, vogliono un cambiamento, sanno che è necessario fare qualcosa, però poi nel momento in cui tu questo cambiamento provi a metterlo in campo, allora ecco che invece emerge quella che è la Pinerolo più conservatrice, che fa fatica cambiare, che fa fatica innovarsi, che fa fatica aprirsi da bella realtà provinciale come siamo e di questo secondo me dobbiamo, perché poi ci piace eccetera, però poi in realtà ci guardiamo tutti dentro quanto è un po' provinciali lo siamo ed essere, e questo provincialismo non nascondiamolo, ci piace anche, ci piace anche. Questa è un po' la contraddizione che c'è questa città e sulla quale secondo me è importante andare a lavorare ed è importante ragionare anche dal punto di vista politico. Francesca sono tante le piazze di artigianato Pinerolo, ritorno a una vecchia definizione insomma di artigianato Pinerolo 40 più eccetera, ce n'è una in particolare che mi è piaciuta tantissimo ed è il Vescovado, che anche quest'anno è stata riaperta, è stata ridata alla cittadinanza di tutte le età, sia per i talk del loft ma anche per artigianato kids e questo spunto mi permette insomma di collegarmi a un'altra piazza, quella dei cortili. Le degustazioni hanno permesso l'apertura di cortili, io come pinerolese insomma sono dieci anni che sono qui e amo Pinerolo e l'ho scoperta da adulto diciamo, non sono cresciuto qua e ho scoperto degli angoli meravigliosi aperti grazie all'artigianato Pinerolo. Perché solo in questi periodi? Potrebbe essere anche un modo per, chi lo sa? O no? Oppure è meglio concentrarle in attività come artigianato? No, noi collegandomi a quello che diceva il sindaco, il cambiamento fa paura, però la definizione di Calvino di città è che le città sono fatte anche di sogni e desideri quindi noi stiamo già sognando a portare open house, cioè quello è veramente a proposito di spazi da aprire, di spazi da riscoprire, da conoscere. Qui ci va veramente un grande grazie perché in più progetti abbiamo avuto associazioni, diocesi privati che ci hanno messo e commercianti che ci hanno messo a disposizione spazi appunto sconosciuti perché privati, intimi, nascosti, fragili, delicati e dunque che vanno aperti con una certa cura. Da questo punto di vista Pinerolo Bottega Aperte ha visto una grandissima collaborazione delle attività commerciali di alcuni privati che ci hanno messo a disposizione gratuitamente alcuni dei loro negozi sfitti, alcuni dei loro spazi non utilizzati in questo momento e noi siamo andati a riempirli di artigianato, di arte e questo insomma è una cosa bellissima. Dall'altra parte appunto come bene dicevi le degustazioni hanno invaso alcuni cortili anch'essi privati e il momento appunto della riscoperta del vino quindi di un gusto anche che ci racconta una storia del nostro territorio perché la nostra collina era veramente una collina di vigne, di viticoltura eroica. Da questo punto di vista è interessante poterlo appunto degustare e riscoprire all'interno delle nostre mura medievali e francesi. Ed infine appunto il grandissimo grazie al Vescovo e alla Diocesi che ci hanno concesso non tre giorni ma addirittura cinque con questo tema che fin dall'inizio ci ha contraddistinto questa partnership diciamo i giovani e i bambini cioè i più piccoli, il futuro ma come ci tengo a dire sempre il nostro presente. È vero, il presente, il presente e il futuro di artigianato, di artigianato Pinerolo, delle tante attività che si ritrovano e che sono insieme, che vengono unite insieme da questo progetto Francesca perché sono tante le anime che collaborano alla realizzazione di questo appuntamento molto sentito, ricordiamolo, ricordo anche di Ezio Giai che abbiamo ricordato in apertura di Rassegna, tanti anime in un unico progetto e che questo insomma è importante remare tutti dalla stessa parte, sicuramente con le crisi però è importante insomma avere poi un unico obiettivo no? Sì, su questo il tema era, voleva proprio raccontare innanzitutto questo, le città invisibili sono l'idea di Calvino che ogni città nasconde al suo interno altre città, ogni città è fatta di tantissimi strati, alcuni più visibili perché sono più in superficie altri più profondi, più nascosti ma non per questo meno importanti e l'idea di artigianato da alcuni anni è proprio questo, portare un po' in superficie, dare un riconoscimento, valorizzare i talenti che abbiamo, che ci sono tutti i giorni, che si fanno un mazzo tanto tutti i giorni e che la politica ma soprattutto la città almeno una volta l'anno deve vedere e soprattutto ringraziare e sentirsi orgogliosa e riconoscersi, le comunità si riconoscono anche in queste tre giorni, noi l'abbiamo detto fin dall'inizio anche nei momenti di festa, Piazza Marconi, lo street food, i momenti conclusivi, per questo questa sera abbiamo voluto questo un momento dall'alto per ritrovarci e dire, caspita, ma questa è la nostra bella città. Ecco, anche quest'anno l'ottigianato Pinerolo chiuderà nella terrazza San Maurizio, tra poco ne parleremo. Luca, io con te e poi anche con Francesca, vorrei parlare della percezione di Pinerolo, non solo dei Pinerolesi, abbiamo parlato del coraggio necessario, ma anche di coloro che arrivano da fuori. Allora, hanno avuto molto successo le visite guidate, anche questo è stato anche un gesto, un modo per essere costanti, per continuare a proporre Pinerolo e il Pinerolese, parlo anche di Pinerolese Luca, quindi la percezione di Pinerolo anche verso l'esterno, anche questo penso che sia importante. Ma questo è un tema che è quasi un fil rouge che ha legato molto questi sette anni di amministrazione, perché tanti non ci credono, tanti fanno fatica ancora ad accettare quest'idea, però il feedback che noi abbiamo è il ritorno delle persone che o per qualche modo vengono a vivere a Pinerolo, per lavoro, perché insegnano, insomma la caserma, insomma ci sono l'ospedale, cioè ci sono tre o quattro cose, istruzione superiore, ospedale e terzo alpini, mi vengono in mente che sono i primi tre e anche poi le aziende, fanno in modo che arrivi gente da fuori di Pinerolo che trova Pinerolo meravigliosa, trova Pinerolo meravigliosa, tante volte riceviamo anche dei complimenti sotto questo punto di vista qua e il Pinerolo medio invece ha una percezione della città che spesso purtroppo è il contrario, una città degradata, una città sporca, allora ecco che è vero, ci sono tanti problemi, perché problemi ce ne sono, non li abbiamo mai nascosti, però forse un pochettino di entusiasmo in più ogni tanto e anche una consapevolezza che comunque nel panorama insomma piemontese, ma mi sento dire anche italiano, Pinerolo resta ancora un bel posto dove vivere, una città ordinata, una città ricca di servizi, ricca di cultura, ricca di iniziative. Una città ricca di iniziative e di progetti, sono stati tanti i progetti, le strade di Forti, ricordo ad esempio unire cultura e tradizione, storia del territorio attraverso la cultura, spettacolo, musica e turismo, il turismo, insomma sappiamo l'importanza e il ritorno che ha sul territorio, l'accoglienza, ci sono diverse strutture, forse sarebbe bello se ne fossero delle altre, insomma a me piacerebbe aprire un Ted and Brave a sapere come manca nel centro storico, ci sono però dovrebbero esserci un po' di più, ecco su cosa lavorare per il futuro Francesca, continuando su questa strada sicuramente del coraggio e della promozione turistica, perché c'è tanto da mostrare secondo me di Pinerolo e del Pinerolese. C'è veramente tanto da mostrare a chi ha voglia di scoprire un po', quindi un po' l'etichetta che ci hanno dato ma che in realtà piano piano ci siamo fatta nostra è quella di un territorio per un turismo slow, cosa significa un turismo lento? Non tanto quello sicuramente della bicicletta, quello dell'escursionismo, quello della famiglia, ma anche lento nel senso che ha il tempo e la voglia di scoprire e da quel punto di vista devo dire che invece il lavoro c'è e man mano abbiamo visto questo asset crescere, quindi forse è il quarto che aggiungerei all'elenco che ha fatto il sindaco, perché oltre certo a strade dei forti, ma anche alle mostre importanti che negli anni sono arrivate, stanno arrivando tutta la parte anche di incontro ecumenico, abbiamo avuto da poco addirittura il presidente Mattarello grazie a questa specificità del nostro territorio, la presenza di più confessioni, la storia che si respira, ripeto, siamo qui di fronte a questo palazzo meraviglioso, di fronte alla nostra via Principi d'Acai, alla nostra via medievale e francese, la gente ha davvero voglia di riscoprire questa cosa qua, non solo italiana ma anche francese, tedesca, austriaca e questi numeri iniziano ad avere qualche significato. Ecco, numeri importanti, parliamo soprattutto anche di persone, Luca per chiudere il nostro intervento, l'importanza delle persone, delle attività produttive che Attigianato celebra in questi tre giorni, ma ovviamente per tutto l'anno, poi settembre è il mese in cui si parte, in realtà è un po' come dire il capodanno e si riparte per il futuro, soltanto alle sfide, tu sei un ciclista, sei anche tu un amante dello sport, permettimi questa metafora dello sport, quindi il prossimo obiettivo, del prossimo traguardo o traguardi al quale puntare tutti insieme, hai già accennato qualcosa in questa nostra chiacchierata, ma vorrei sottolinearlo insieme a te, partendo da Attigianato a Pinerolo, per il prossimo futuro. Ce ne sono tanti di obiettivi e sicuramente il tema delle manifestazioni è un tema perché dalle manifestazioni passa un concetto secondo me importantissimo che è quello del marketing della città, che è quello proprio del mettersi in mostra e il ragionamento che facevamo prima, cioè secondo me sulle manifestazioni non bisogna mai perdere l'attenzione, dopodiché nell'immediato futuro, questo lo diremo, non c'entra molto con l'artigianato forse, però faremo una conferenza stampa credo nel giro di un paio di settimane perché noi abbiamo davanti almeno un anno e mezzo, e lo dico senza mezzi termini, di difficoltà logistiche, perché partono una decina di cantieri e partono tutti insieme, due scuole, Piazza Roma, il CIS, l'auditorio di Corso Piave, insomma daremo una buona comunicazione spero, ecco quindi vedremo secondo me nel prossimo anno e mezzo l'impatto che il PNRR ha avuto e anche io spero che qualcuno ci riconosca la capacità che abbiamo avuto come ente di attrarli questi finanziamenti e di metterli a terra come si suol dire oggi nei tempi che non era per niente facile, nelle tempistiche, e in questo gli uffici, questa volta devo proprio dirlo, hanno fatto un lavoro stratosferico, stratosferico, è chiaro che però la fine del 2023 e tutto il 2024 sarà caratterizzato da lavori in corso, ecco che impatteranno in maniera pesante sulla città, però io credo che poi i risultati dal 2025 in avanti si vedranno e non potranno che essere assolutamente positivi. Assolutamente, quindi avere una visione del futuro, non solo al domani ma pensare al dopodomani, in avanti. E in questo secondo me le manifestazioni le metterei, le manifestazioni organizzate così perché l'altro aspetto fondamentale che è quello dell'istruzione superiore sul quale continuiamo a battere è un connubio che va avanti cioè i giovani a Pinerolo arrivano da lì, conoscono Pinerolo perché ci sono venuti probabilmente a fare le scuole ecco questa è una ricchezza che la città deve cercare in qualche modo di mantenere assolutamente sul territorio e le iniziative e le manifestazioni sotto questo punto di vista qua aiutano tantissimo. Ultima domanda, prima di ricordare il finale, Francesca, di Attigianato Pinerolo 2023 sulla terrazza di San Maurizio la comunicazione, Luca l'ha appena accennato come comunicare Pinerolo è cambiato nel corso degli anni è in continua evoluzione, anche questo è un cantiere si lavora anche su questo sono tanti francesi per esempio che incontrano in città e che raggiungono Pinerolo per tante ragioni ma non solo francesi, hai parlato anche tu di turismo lento che arriva dal nord Europa eccetera come comunicare Pinerolo, si parla insomma di brand vabbè di marca Pinerolo, comunque è importante comunicare non solo ovviamente i lavori quindi la necessità dello sviluppo della città ma che passa anche attraverso la promozione assolutamente sì e noi abbiamo alcuni fiori all'occhiello una delle cose che forse a volte diamo un po' per scontata è che invece davvero valica i nostri confini è quella del mercato per esempio quindi abbiamo un territorio da questo punto di vista siamo qua di fronte a Terrazza Caio dove abbiamo presentato appunto l'enogastronomia ma anche tutta la parte vitivinicola da questo stiamo cercando di lavorare su un distretto del cibo questo perché la tavola è anche un momento di incontro un momento di scoperta e di curiosità è qualcosa che fa muovere le persone e il nostro territorio racconta prodotti d'eccellenza un grande saper fare ma si posiziona anche in maniera molto importante nel mondo ceralicolo, nel mondo dell'allevamento e quindi sicuramente questo è uno dei canali di promozione e poi come abbiamo detto e come si è visto in questo artigianato noi vogliamo puntare sull'arte, la creatività, la musica tutte le occasioni di incontro che passino dalla storia e dalla cultura 22 di ottobre ricordiamo l'appuntamento con Artigianato Off quindi il festival legato all'Artigianato Pinerolo che esiterà appunto il 22 di ottobre Calibro 35 Grande Band che sarà al Teatro Sociale di Pinerolo con questa coda dell'edizione numero 47 di Artigianato Pinerolo andremo a chiudere Francesca questa edizione alla terrazza Terrazza San Maurizio anche quest'anno questo appuntamento sta per arrivare il tramonto un sole e una luce meravigliosa ci attende il teatro, ci attende la musica ci attende l'aperitivo per chiudere in bellezza anche in questo caso coinvolgendo tante anime di questa città Sì, innanzitutto un grande grazie enorme a Loft Pinerolo Urban Box e l'associazione Amo Pinerolo perché ha aperto e chiuderà questa 47esima rassegna ed è veramente un orgoglio anche proprio personale perché questo gruppo giovani abbiamo iniziato a lavorare con loro quasi dieci anni fa ed erano veramente dei cuccioli e insomma vedere che sono diventati così attivi, così organizzati, così numerosi da poter aprire e chiudere una rassegna di questo livello vuol dire che di strada se ne è fatta tanta e che sono diventati dei professionisti e da questo punto di vista sono riusciti a spaziare hanno spaziato proprio come la rassegna dal live painting, ai concerti da balcone, ai talk, ai momenti di riflessione alla silent disco quindi insomma perché tutto è giusto all'interno di una festa tutto è giusto all'interno di una comunità il fatto di arrivare sul Belvedere di San Maurizio aveva un po' questo significato abbiamo cercato nei vicoli, nel nostro centro storico e nei nostri portici ottocenteschi di riscoprire appunto, di portare alla luce i nostri talenti e alla fine delle cinque giornate andiamo un po' dall'alto a appunto rimirare la nostra città sentendoci parte di una comunità grande e bella di cui siamo veramente orgogliosi guarda, ti sintetizzo questa roba qua con una battuta che ho ascoltato prima in piazza Marconi, allo street che ho fatto pranzo daltavano, parlavano, guardavano i volantini e il commento è stato tutto quello che ha fatto Loft quest'anno è fighissimo punto e può bastare c'è nient'altro da dire e poi soprattutto e non l'ho detto io no 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 perché soprattutto si è parlato si sono messi in campo diversi argomenti è diventato veramente una piazza una gora in cui potessi confrontare e creare per il futuro sta arrivando il sole Francesca, tra poco il tramonto mi cuocetta la vice sindaca ok ci diamo appuntamento in terrazza terrazza San Maurizio per la chiusura di Artigianato Pinerolo anche se in realtà continuerà fino alle nove alle ventuno se ricordo bene grazie per essere stati con noi ringraziamo il sindaco di Pinerolo Luca Salvai la vice sindaca Francesca Costarelli vi ringrazio entrambi grazie Luca grazie Francesca per il vostro lavoro per esserci grazie ancora grazie a te grazie a voi Claudio grazie che ci aiutate a raccontare così bene quello che facciamo grazie vi diamo appuntamento al prossimo anno per Artigianato Pinerolo ma ovviamente la rassegna continua con questi appuntamenti che vi abbiamo raccontato rb e continua il suo lavoro di radio di piazza e di tv di piazza grazie per aver ascoltato per aver guardato le nostre trasmissioni buon proseguimento con i nostri programmi e viva Artigianato di Pinerolo ciao a tutte e a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti